Il progetto On The Road sbarca a Palermo nella sala consigliare del comune di Palermo con la benedizione del sindaco Leo Luca Orlando. Davvero una bella avventura che ha visto entrare in rapporto telefonico Leo Luca Orlando con il sindaco di Rieti, Simone Perangeli, per un simbolico gemellaggio nel segno della sicurezza statale. Quindi il film realizzato all'epoca con il contributo fondamentale del comune di Rieti, della Polizia Municipale, di tante forze del territorio, l'impegno di Rieti Emergenza che ricordo con grande affetto, attori professionisti, una regia d'autore, un direttore alla fotografia di elevato livello. La dimostrazione è che quando si lavora a livello professionale, quando poi ci metti anche mente e cuore, si possono raggiungere risultati importanti. Ma quello che ci preme sottolineare non è la forma. Il titolo del film On The Road, scritto così all'italiana, vuole proprio testimoniare questo. A noi non interessa la forma, ma la sostanza. La sostanza è una sola. Ogni anno nel mondo più di un milione di morti sulle strade. È giunto il momento di gridare in modo forte, inequivocabile, senza assolutamente sconti per nessuno. Basta vittime della strada. E questo film è l'occasione, in un simbolico tour on the road per l'Italia, per porre Rieti al centro di una campagna importante di sicurezza stradale. Perché la vita è un diritto irrinunciabile e va difesa ad ogni costo, anche e soprattutto attraverso un apporto istituzionale e attraverso le legittime garanzie giuridiche. Cominciamo a chiudere un percorso importante con due parole che messe insieme significano omicidio stradale.